Musica Vince la Juve Sabbia lo fa per 5-0 l'Under 17 di Mr. Magone torna al successo lo fa contro il Gubbio qui al Menti di Castellammare di Sabbia mattatore del match con una doppietta la prima con la maglia della Juve Sabbia Peppe Lamonica Ciao Peppe, sei sceso per dare una mano dalla Beretti qui agli Under 17, prestazione importante la tua, hai voluto il gol, l'hai trovato, ne hai trovato un altro doppietta importante, successo importante che lancia ancora la Juve Sabbia playoff Sì, sono felice per questa doppietta, come ripeto il Mr. Magone mi ha chiamato per dare una mano, ho dato un supporto alla squadra che meritava e quindi sono felice Da Pirone a Sturklin, non cambia niente, tu vai sempre in gol Sì, non mi cambia niente perché sono due ragazzi fondamentali per questa società e andiamo avanti così Adesso bisogna continuare a vincere, bisogna farlo con l'Under 17, bisogna farlo con la Beretti, tu sei arrivato in quel di gennaio qui alla Juve Sabbia Match importante quest'oggi per te, l'obiettivo stagionale di Peppe Lamonica qual è? Beh, andare breve con la Beretti e con l'Under 17 perché questo è il nostro obiettivo e spero di far più quel possibile 2001 però non senti la differenza se stai su o su Sì, 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 sono qui e do una mano a tutti Grazie Peppe Grazie a te, Ciro